le sardine perché nuotano proprio in branco per richiamare il desiderio di riempire le piazze ma anche fanno riferimento alla caratteristica di questi pesci sono piccoli indifesi ma si muovono in gruppo e con forza. Adesso passiamo a vedere le elezioni che in Italia ci sono vari tipi di elezioni le elezioni politiche per eleggere i membri della Camera e del Senato le elezioni europee per eleggere 76 membri del Parlamento europeo che spettano l'Italia elezioni regionali per eleggere il presidente della giunta regionale e del consiglio regionale e poi in ultimo le elezioni amministrative per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Normalmente si vota per ognuna di queste elezioni ogni cinque anni possono votare tutti i cittadini italiani che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età per la Camera dei Deputati ma per il Senato devono aver raggiunto l'età di 25 anni quindi per il Senato votano solo dai cittadini che hanno raggiunto i 25 anni. Il sistema elettorale è un po' complicato al momento attuale c'è un sistema elettorale misto è chiamato Rosatellum bis dal nome del suo relatore Ettore Rosato ecco è un sistema per un quarto proporzionale con il quale il 64 per cento dei seggi cioè delle sedie in Parlamento vengono eletti in collegi plurinominali proporzionali e gli elettori non esprimono preferenze. C'è una soglia di sbarramento cioè è previsto un numero minimo di voti per poter partecipare alla ripartizione dei seggi per poter andare in Parlamento che è fissato al 3 per cento e un quarto invece ha un sistema maggioritario cioè il restante 36 per cento dei rappresentanti popolari viene eletto in collegi maggioritari uninominali dove si presentano più concorrenti ma solo uno vince tutti gli altri vanno a casa. 12 deputati e 6 senatori sono poi scelti dagli italiani residenti all'estero. L'attuale legge elettorale è oggetto di critiche si pensa di fare una riforma ma mentre la Lega vorrebbe un sistema maggioritario il PD e il Movimento 5 Stelle rimangono per il sistema proporzionale. Salvini della Lega propone un sistema con il 75 per cento maggioritario e il 25 per cento proporzionale. Fratelli d'Italia cioè la destra propone un 64 per cento maggioritario un 34 per cento proporzionale mentre il Partito Democratico e i 5 Stelle propongono una legge chiamata Germanicum o Germanicum perché si ispira al modello tedesco che abbiamo qui in Germania. Questo sistema prevede l'abolizione dei collegi uninominali, l'inalzamento della soglia di sbarramento al 5 per cento cioè un minimo di 5 per cento di voti per partecipare alla distribuzione dei seggi per andare in Parlamento e però all'introduzione del diritto di tribuna cioè per non lasciare fuori i partiti più piccoli che magari pur avendo raggiunto il 5 per cento dei voti a livello nazionale hanno però un successo a livello regionale quindi potrebbero entrare anche in Parlamento e dopo tutta questa spiegazione difficile difficile magari anche un po' noiosa vi insegno alcuni modi di dire con la politica ecco fare la politica dello struzzo struzzo questo animale no che mette la testa nella sabbia non voler vedere la realtà ignorare la realtà per non prendere decisioni esattamente come fa lo struzzo che mette la testa nella sabbia quando si avvicina a un pericolo fare la politica dello struzzo la politica del carciofo invece un modo di agire che arriva al risultato desiderato per gradi con fasi successive a piccoli passi l'origine è di una frase detta dal re di sardegna carlo emanuele terzo che alla fine del 1700 ha detto che l'italia era come un carciofo e come tale andava mangiata una foglia per volta poi la politica della lesina è una politica del risparmio come quella adottata subito dopo l'unità d'italia per risanare il bilancio dello stato la politica delle mani nette e la politica di rinuncia il primo ministro cairoli nel 1878 al congresso di berlino indetto da bismarck per rivedere la politica dei balcani usò questa espressione per dire che il governo italiano si asteneva non voleva decidere in questioni internazionali questo era tutta la mia chiacchierata sulla politica italiana mi rendo conto che è molto difficile ma questo comunque anche per gli italiani capire la legge elettorale non è facile ci vogliono diverse lauree l'importante è avere più o meno un'idea dei partiti di come si vota e quali idee ci sono adesso soprattutto dei partiti che ci sono adesso al governo ho finito spero che questo tema vi abbia interessato e vi do appuntamento al prossimo podcast ciao ciao dalla vostra insegnante luisa ciao ciao